ma buongiorno si buongiorno un cazzo no ma perché e perché si ma non sei contento che oggi non lavoro sto tutto il tempo con te no no adesso andiamo a fangiro ah ma che giro fermate dio caos ah che hai fatto ma hai finito la bestemmia da me no no anche perché se bestemmi c'è gesù con la colonna energetica ti arriva addosso proprio mamma mia quando si può o no quando si può quando si può guarda quando si può o no capito vattene dove andare e dopo dove andare oh è matto guarda come rile guarda come rile che ha fatto il cane ti ha pisciato sul letto no il mio giupiscia perché io prima di tutto chiudo la porta e io ne s*****o ah con te che ti fa che stai fa? caffè e dopo? e dopo vuoi fare quel pesciotto spostra spostra la tazzina bevete oh quanto è violento sto cercando guarda che ti tiro il caffè sa ah tu c'è scherzo mette il tiro non te la faccio ti trema il braccio a me mi treva l'uccello neve ti dico io guarda come ti trema bevete mannaggia la madre no però no e no e no andiamo al bar subito che stia che partimone va bene no vabbè sta pieno ma io non avevo l'idea ma sta pieno no oh oh ma che hai preso oh o no mannaggia il bamboccio ma io veramente guarda fammi di aiutare vieni qua bello eccolo si leva sto stronzo qui davanti ma perchè è il bambino che manca c'è sentra ma perchè ma levolo di c*****o questa s*****a è bello è il bambino noi gli troviamo il nome quando finirete a montare queste scrofe in talamaglia ma perchè ma guarda dove ha mannato sta spalliera dove è la spalliera eh oh tira tira basta basta si stendono tutto a gambe larghe ma dove ma dove ma dove ma perchè dici questo eh o no oh fermati oh come mai fermati se stendono ma non c'è la spalliera si stendono eh a gambe larghe e poi e dopo e dopo e dopo se sgrillettono bene no ma dietro mamma che c'è lì cosa fa ma dietro questa macchina ma dietro a chi ma dietro a chi ma dietro da chi ma dietro da chi dai a dietro da chi dai che verde eh mi sono addormentato ma dai cammina sto testo di c*****o nucleare no cammina ti li ti li che che hai fatto? ti avevano corso dietro quando venivi? a palamori eh ero fidanzato abitavo qua giù eh e ti tiravano gli uovi? eh mi tiravano gli uovi venivo con la vespa io mi tirarono gli uovi di lì mi fermo i corsi dietro che si chiappo quindi questo è il luogo del delitto si questo è il luogo dai che io la dà ahhh guardate macilli 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 consuma la notte di freni macilli 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 calmati che scendo ci vediamo prossimamente va bene va bene ok andiamo guarda che ne è la macchina mia questa eh ahahah 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 ti sei sbagliato un tantino io veramente mi tocca portarti in giro non conosci manco la macchina oh no oh oh no ma ahahah che si ammontasse un'altra macchina niente ma pareva quella ma che stiava a pensare che pensare da la figa ma ahahah può essere sa sei sbagliato il signorino che spettacolo quando le porto di qui le fa vedere tutta sisi ma fai vedere il cazzo invece cazzino nooo è meglio è meglio eh è meglio eh ma riviro poi dai bacini bacini nooo ma quei bacini quei bacini si toglie la sorca altro che no che gliela toccà la sorca ma col pelo senza sempre veloce adesso ti do a cercare come devo fare eh 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 ci mette le mani il sente che devo sentire il pelo ma perché oh voglio camminare che mi frega un cazzo oh ecco che stupato salsiccia secca ah vabbè vabbè qua abbiamo il sugo per la polenta vabbè vabbè andiamo lì eh eccolo parvena parvena e champagne ah anche la anche il vino l'ha portato scrocchella colpisce ancora scrocchella ancora è vero che se sta dimette il papa è vero se sta dimette è vero se sta dimette notizia bomba notizia bomba notizia show no 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 che il papa così ce ne va a usare se sta per dimette il papa dice perché mangia troppo e si fa io volevo vedere solo lo stanno le sgommate nel motorino lo stanno lo stanno è pulito lo stanno le sgommate lo stanno ma ti è piaciuto di la verità mi è piaciuto ma io ti avevo sparato no si dovete rivivere le storie di ieri fate andate swipe up o no cara fa o no allora fate un prossimo fate swipe up canale youtube andate a vedere swipe up cosa puoi vivere? com'è com'è? questa è la coppa del nonno questo è il portore canati ma non è sorrere perché le bombe lo stanno farò com'è com'è? ho fatto mangiare che ti fa? coccodrillo con i fegatini umbrish buono buono bella la polenta sugo e salsiccia giu 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 giq Artsughe? Artsughe? Artsughe! scrocchioglino! incredibile scrocchioglino eccolo è arrivato subito Com'è il mantra? Una scatapusti scatramatos! Buon credere buon bene! Guarda come picchia! Si era un po' addormentato eh! Si era un bardellito! Si era un bardellito ragazzo! Quest'oggi ho comprato... Quest'oggi ho comprato un anello di vino! Perché è l'anello dello spumato! Baccia l'anello! Blasfemo! Baccia l'anello! 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 Chi c'è? C'è il nostro amatissimo... Nonno Faustino! Bello sempre di Roma! Bello di Roma! Guarda quanto è contento oggi eh! Guardate dove sono! Ve lo ricordate? Chi portavo qui? La Zigianna! Voglio condividerlo con voi questo posto perché... È nel mio cuore! Era il posto preferito della Zigiana quando la portavo... Spesso la portavo con la carrozzina! Sono venuto a fare un giretto... Con la bestia! E mi sono fermato qua! Eccolo! Guardate chi ho incontrato! Chi ho incontrato! Eccolo! Eeeh! Sei contento? Grande amico mio! Che stai a fare? Attenzione! Attenzione! Vai! È partito! Grande! Grande! Mamma mia che macchina avuta! Mamma mia! Sei carico? Sì! Oggi mi porta a fangere! Quando passa una figa! Eeeh! Ecco ecco la figa! Sono, 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 sono! Eeeh! Quando passa una figa eh! Viva! Oggi è una figa! Eeeh! Mamma mia come va ragazzi! Andreeh! Mamma mia! Vai Andreeh! Vai Andreeh! Grande! Mamma mia la stamponata è una bestia! Bisogna attaccarsi perché non si legge! No! Salutiamo Andreeh! Il grande! Ciao Andreeh! Si carico! Così poco? Più! Pazzo tazzo tazzo! Pazzo tazzo! Te voglio! Te voglio! Pazzo zucato! Ciao Andreeh! Pazzo bene! Anche io! пazzo tanto io! Quanto su bello! Senti che collore haciere! Ma se... Senti che collore haciere! Ma se... Oh oh oh! E' sabato! Ne sa tutte! C'è un prezzo perché... Chi volevi vedere? Mabbo Natale! Eccolo! Guarda si è tutto sbragato eh! Eccolo! Ta 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 ta! Tazzo Ti piace sto babbo natale? Bello eh Sei carico Babbo drillo Babbo drillo Vai ha giudicato Sei carico Ha scelto il nome Come mi ferrà la barba? Come mi ferrà la barba? Com'è? Com'è? Tazzo Ti piace la barba del babbo drillo? Vai 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 Babbo drillo Che grande Andreone numero uno Ciao Andri Ciao Sera Missile Chissà sa qua eh Chissà sa Gia 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 Oh gia gia Nananananana Quale fa l'inter? Gia gio Ti piace? Eh no Chi sei Lukaku? Lukaku c'è no Di dove è Lukaku? Di Puglino Di dove è Lukaku? Di Puglino Di dove è? Ma abba Puglino Ma zitto figlio della Mignola Capacchino E la tartina Che è un cane? È il figlio della Mignola Come hai preso la scala? Eh ma stai laggiù E allora portai tu Ma tu chi sei? Eh? Chi sei? Sono testa da cazzo Anche tu? Sì Dai ti do la mano Ti aiuto Eh ti dico E Arguas Non and